Lo so che è una cafonata fare video mentre mastico, però volevo dirvi che c'è chi si mangia frutta, gelati, cose varie e io invece sto per diventare un salmone perché non faccio altro che mangiare salmone. Fermatemi! Allora, buongiorno a tutti, noi abbiamo finito ora di scattare alcune foto, adesso stiamo andando al pranzo ma vi voglio far vedere un posto speciale e Riccardo mi ha appena copiato l'idea ha voluto postarlo anche lui comunque questo qui, ve lo ricordate? Voi che avete fatto stamattina? Comunque non c'è niente di più bello di Anagne, secondo me tranquilli, deserti, più belli della storia. È chiuso il tè! Molto bene, si cambia meta allora. Ok, abbiamo trovato il ristorante aperto, bello e carino. Il Gistro mi ha regalato gentilmente uno dei suoi libri. Stavo dicendo che il Gistro in maniera molto gentile mi ha regalato questo libro che lui ha già letto, perché l'uso in queste cose è colto. Di conseguenza lo sto leggendo anch'io e ve lo consiglio, sono solo le prime pagine ma già lo amo.